Salve, Robert Neuberger, francese, psichiatra, psicoanalista e terapeuta di coppia e di famiglia. Ha al suo attivo una vastissima esperienza clinica, così come un'esperienza di formazione che ha realizzato soprattutto tra Parigi e Ginevra e poi in altri luoghi. Ricordiamo che è stato ospite per due seminari dati agli allievi di EFCOS nel passato. È autore di numerosi libri, tra i quali un libro sulla terapia della coppia, un libro che è anche disponibile in italiano sull'arte Colpevolizzarsi, che è un libretto piccolo, molto godibile, molto interessante. Poi un altro libro sulla coppia e il suo mito, il suo terapeuta, oltre a numerosissimi articoli che sono apparsi nelle riviste del settore. Recentemente Neuberger ha proposto una serie di video su argomenti che hanno a che fare con la coppia, con la terapia, con la famiglia, video corti ma molto interessanti e molto intriganti. Così io l'ho contattato e gli ho chiesto il permesso di utilizzarli, di tradurli all'italiano e di renderli disponibili per il pubblico, per il nostro pubblico, per il pubblico italiano. Robert ha accettato e così noi abbiamo scelto per ora quattro di questi video e li abbiamo tradotti e li abbiamo sottotitolati. Ve li proporremo una volta a settimana, secondo una cadenza che verrà indicata nel nostro sito o sul nostro profilo Facebook. Speriamo che lo troviate come noi un'esperienza interessante e siamo in attesa dei vostri feedback, dei vostri commenti e delle vostre opinioni. Buona visione.